L'ho studiato tantissimo ai musei. Io sono quello che tante volte nel museo accende l'acqua perché mi avvicino a farlo vicino per vedere come hanno usato i feneri, come hanno messo i colori. Mi interessa tutto, mi interessa la quantità dei strati messi l'uno sopra l'altro, non solo per copiare, ma per imparare come creare i miei quadri, le mie illustrazioni e così. La tecnica che ho usato è l'acadito perché ho usato la carta, una carta abbastanza pesante ma non un cartoncino perché così potevano essere ben scanalizzate le illustrazioni. e alla fine scansionate. E poi dopo, da critico, sono riuscito a realizzare tutto.